Con le nostre telecamere avevamo già documentato la partenza della delegazione novarese e ora la carovana Libera Piemonte torna a nord. Un viaggio durato 11 giorni tra storie, scoperte, esperienze ed incontri. Di 2300 chilometri fatti con due pulmini, un viaggio che è partito da Genova sostanzialmente per raggiungere Palermo in nave e poi da Palermo affrontare tutto un viaggio dell'isola, quindi toccando i territori di San Giuseppe Iato, quindi nel territorio del Palermitano e poi a portiera della Ginestra, sede della prima grande strage operata da mano mafiosa per poi girare sul Trapanese, quindi passando da Castelvetrano e scendendo su Naro. Poi da Naro a Catania dove abbiamo incontrato ad esempio l'esperienza della cooperativa Beppe Montana che è quella che molti conoscono perché porta effettivamente il succo d'arancia e le arance liberate su territorio mafioso all'interno dei circuiti COP. Ci siamo imbarcati da Messina meglio, ci siamo imbarcati per raggiungere la Calabria dove abbiamo visitato l'esperienza dello sportello SOS Giustizia all'interno del palazzo della regione Calabria. A Polistena ci sono tante esperienze di resistenza in un territorio caldissimo. Dalla Calabria ci siamo spostati verso la Campania toccando in particolar modo l'esperienza di Castelvolturno con la cooperativa Le Terre di Don Beppe Diana, terre liberate dove oggi producono la mozzarella di bufala, la scamorza in una terra che come noto oggi è sostanzialmente etichettata come terra dei fuochi. Etichettare una terra come terra dei fuochi vuol dire intanto minacciarne l'economia, giusto o sbagliato che sì. Da lì ci siamo spostati a Casal di Principe che ad oggi pare proprio essere quasi una terra liberata, forse questo è un po' esagerato da affermare in questi termini ma è un territorio che è riuscito a esprimere un sindaco sicuramente in opposizione a quello che è stato il predominio delle cosche per tanti anni. Ci sono tantissimi progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati efficaci. Grazie a tutti.